Un ringraziamento sulle 37.800 abitanti di Modugno, residenti, noi siamo solo in 9 oggi, io mi aspettavo almeno 500 persone ma niente, quindi che cosa deduco? Che tutti sono bravi a scrivere su Facebook Modugno, puzza, madonna, è irrespirabile, l'altro giorno sono andato a vomitare ma poi alla resa dei conti non interviene mai nessuno. Comunque volevo ringraziare anche i miei 9 amici cittadini di Modugno che si sono mossi perché la puzza è veramente insopportabile. C'è Mario Pilolli, c'è Carlo Marina, c'è Giuseppe Carnevale, c'è Fabio De Giosa, c'è Claudio. Abbiamo chiamato il comandante dei carabinieri, giusto Mario? Che ci ha detto? Che è disponibile ad incontrarci e a contribuire a far sì che questo problema venga risolto. Per far sì che questo problema lo risolviamo, cari amici, amiche, concittadini, residenti, domiciliati, stateci vicino, sopportateci, supportateci e andiamo avanti perché questa lotta la dobbiamo vincere noi. Vogliamo sapere responsabile, vogliamo la risoluzione del problema. Anche perché credo che noi viviamo tutti qua, è veramente insopportabile la puzza, noi non sappiamo chi è l'autore di questa puzza, il comandante ci ha anche detto che se facevamo c'erano due tipi di denunce da poter fare, noi non ne abbiamo fatta neanche una perché una si spostava sul civile e dovevamo fare nomi e cognomi di chi appuzzolisce Modugno, ma noi non lo sappiamo. Quella penale ha un percorso troppo lungo, quindi che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di scrivere una sorta di… Dillo tu Claudio, abbiamo deciso di attivarci, di fare qualcosa in tal senso. Come? Scrivendo? Dobbiamo innanzitutto avere la collaborazione di tutti i cittadini, scriviamo una sorta di denuncia, petizione, come la vogliamo chiamare, però abbiamo bisogno di sossegno di tutti per poi capire che passi effettivamente andare a fare. Quindi l'invito a tutti voi è non 9 persone, ma almeno 900, 1000 persone per cercare di risolvere questo problema che dura oramai da tantissimo tempo. Da Modugno è tutto. Da Mario, da Carlo. Vi facciamo sapere presto. Arrivederci a tutti.